24 ore di bombe, raffiche e di artiglieria hanno fatto segnare il record di vittime palestinesi dall'8 luglio scorso, dall'inizio dell'offensiva israeliana nella striscia di Gaza. Quasi 100 i morti e 250 i feriti solo questa domenica. È la fine del cessato il fuoco, ci sono delle esplosioni, ci intimano di andarci nel prima possibile. Siamo nel quartiere di Sujaya, quello più colpito, a destra di Gaza. Gli attacchi hanno ucciso 65 persone, 250 i feriti dalle prime ore della giornata. Un'emergenza impossibile da affronteggiare in due ore di cessato il fuoco, come racconta quest'uomo dei soccorsi. Non abbiamo avuto il tempo di raggiungere tutti i feriti, sono troppi, due ore non sono sufficienti, dobbiamo pregare Dio perché ci diano più tempo o un'altra tregua. Hamas parla del rischio di una catastrofe umanitaria, se non verrà lasciato il tempo ai soccorsi di intervenire dopo gli attacchi. Dall'inizio del conflitto, 14 giorni fa, il numero dei morti è salito a circa 438, quello dei feriti a circa 450. I migliaia scappano dai bombardamenti, oltre 80.000 persone hanno trovato rifugio nelle scuole gestite dalle Nazioni Unite.